Tac, sterzo a destra, trup, sterzo a sinistra, pelava il cordolo. Ho detto, ma cosa sta facendo questo qua? Drifting. Tu devi entrarci il più forte che puoi, il più spettacolare che puoi, con la più padronanza che puoi. Tutto scecrato insieme fa una performance da 100 punti. Vado a Como, a Valle d'Intelvi, a vivere per un anno e mezzo e imparare le strade, poi a furia di provare le strade mi hanno levato la patente. STI, 420 cavalli, tutta su perrin, cioè tutta uniball, era una bomba. Una lama. Una lama. È stata la prima vettura da drifting, 17 anni fa, adesso lo facciamo tutti per bilanciare i pesi, a mettere il vagliatore posteriore. S15, penso che sia la macchina da drift più bella, più performante, con più pezzi aftermarket che esista ancora ad oggi. Motore Supra, 2JZ. Si può vedere? Certo, si può vedere. Controllare un qualcosa che sembra incontrollabile. Governare la dinamica di un veicolo aggiungendo al contempo precisione e spettacolarità per amore del pubblico e della passione per l'automobilismo. Se cercate, per esempio, su Wikipedia, apprenderete che drifting letteralmente significa andare alla deriva. Ma in questa disciplina di approssimativo davvero non c'è proprio nulla, come ci illustra in questa puntata il campione Federico Sceriffo, insieme alle sue meraviglie tutte giapponesi. Pronti quindi a gestire una quantità epica di traversi? Buongiorno, buongiorno, è ben arrivato. Grazie, grazie. Come stai? Quanto tempo? Bene, bene. Adesso molto bene. Devo dire che è la prima volta che vengo qui, lo sai. Noi abbiamo chiacchierato durante la pandemia, abbiamo fatto altre cose insieme che adesso ricorderò tutto in maniera cronologica. Però vederle qua ferme, dritte, fa proprio strano. Poi le parcheggio molto dritte. Sono, guarda, veramente, compulsivamente, io approvo questo tipo di disposizione, mi piace da matti. Descriviamo un po' esatto dove siamo. Questa è la mia cameretta da bambino grande. Beh, bella cameretta. Questa è, diciamo, la conseguenza, questa è la conseguenza di 18 anni di carriera dove, secondo me, dopo dieci anni avevo roba sparsa letteralmente per tutta Italia e anche un po' per tutto il mondo, no? Quindi è sempre stato un grande sogno mio avere il mio posto personale dove poter mantenere i miei attrezzi di lavoro che, facendo il drifter di professione, sono macchine da drifting, ovviamente. Quindi, ormai da sette anni siamo qua a Varano dei Melegari. È un posto bellissimo. Piena Motor Valley. Piena Motor Valley. Mi trovo veramente a casa. Quando sono arrivato mi hanno colto benissimo. Con l'autodromo già ci lavoravo. Abbiamo creato il Drift Mazzuri, che è un evento invernale che ha preso molto piede, piace tantissimo ai ragazzi. Poi c'è solo da imparare qua, in questa via qua facciamo tutte le macchine da corsa che ti vengono in mente, che vanno in giro per il mondo. Quindi mi sento molto fortunato. Ed eccoci qua. Perché in giro per il mondo però c'è anche un'altra sede, copia, speculare, non qui in Italia. Esatto, c'è un'altra sede ad Atlanta, dove teniamo la Fiorella, che è la Ferrari con cui... È stata la protagonista poi della nostra intervista che mi ha fatto durante la pandemia. Esattamente, dove teniamo la Fiorella, che è la nostra Ferrari che fa il Formula Drift. Lei è un personaggio a sé. A sé, è un mondo a sé. È un mondo a sé. Dove c'è anche Olimpia, do tutti questi nomi un po' particolari. I nomi, i nomi di donne. C'è Olimpia che è un Maserati Drift Taxi quattro porte. Bellissima. Tu hai portato un po' di motorvalle, un po' di italianità negli stage. Sì. Ed è apprezzata. Che piace molto. Sta piacendo tantissimo. Immagino. Ma tornando qui, allora, io sono un po' spaesato nel senso che più o meno le conosco, però vorrei che tu conducessi un attimo i giochi. Volentieri. Partendo da... Partiamo cronologicamente. Apprezzo sempre la... E andiamo... Un ordine... Ok. Allora. Un appuntabile. Station Impreza GC8 del 96. È la mia prima macchina sportiva. Quanti anni avevi? Ne avevo 19. Quindi 19enne con una compact way. 19? Non si dice mai l'età, no, è quello per le signore, no? Però 19 vuol dire che comunque se la matematica non è un'opinione, ce l'ho da 22 anni questa macchina, ok? E c'ho un affetto anche personale perché mi era stata comprata dalla mia mamma. Mi rimane un gran bel ricordo della sua mentalità che mi ha inculcato di fare ciò che più mi piace nella vita perché niente mi verrà meglio. E ti ha sostenuto dall'inizio. Sì, sì. E quindi questo mi riempie il cuore al pensiero di raccontartelo. È stata svuotata anche lei però. È stata svuotata, con questa facevo gli Auto Kit Show, quindi arrivavo a Monza con due pitbull nel bagagliaio. Davo i due pitbull al mio amico di turno che stava con loro all'ombra. Gli amici pelosi li hai sempre avuti. Sempre avuti, sempre, hanno fatto una grande, sono sempre state una grande parte della mia vita. Lei è prettamente originale, semplicemente svuotata, turbina, turbina, iniettori e non so se ti ricordi i misure, i regolatori di pressione turbo della Bonalume, quelli proprio della, tipo della Uno Turbo, cioè che tu, c'è il famoso, uno gira la vite, no? E uno dice vai gira la vite dagli bus, beh c'avevo questo qua io. Perché questo è il 211. Esattamente, questo è il 211. Portato più o meno a? 270, 280, tutta vuota. Monza, non voglio dirti una boiata, ma giravamo intorno ai due minuti e cinque, tipo una cosa del genere, cioè che è andare fortissimo con una macchina stradale, volare. Freni grossi ho visto comunque. Sì, freno, no, del primo VRX, coi fari rotondi, bravissimo, che comunque frenava sicuramente di più dell'originale che era un disastro. Allora, Monza Auto Kit, mi divertivo, lei, il fatto che dietro era leggera, come entravo in variante, truc, partiva, facevo la variante tutti traverso, tutti esaltati. Da lì, da lì, ma non è che è nato il drift da lì, da lì è nato che cosa? Il mio drive. Qual è il mio drive per quello che faccio? È vedere la faccia della gente quando esco dall'autodromo, esterefatta, gasata, esaltata. Questa a me mi ha illuminato, anche perché nasco sognando di diventare un realista. Ah, quindi Subaru, integrale. Io nasco sognando di diventare un realista, vado a Como, a Valle d'Intelvi, a vivere per un anno e mezzo a imparare le strade, poi a furia di provare le strade mi hanno levato la patente. Ah, non lo sapevo questo. Hai capito? Hai voglia, hai voglia, hai voglia, ce n'ho diverse da raccontarti. A furia di imparare le strade, c'è un mondo dentro questa frase, vero? Il giorno, il giorno, il notte, cittadini tranquilli che si sono un attimo agitati. Esatto, avevo rotto le balle a un certo punto, no? Da lì sono passati sei mesi. Ed è successo qualcosa, però. Ed è successo qualcosa. Hai deciso? YouTube. YouTube, insieme a un altro mio amico, vedo questa Lexus che la guidava poi un pilota contro cui ho corso per anni, dopo, quando sono arrivato in Giappone. Tani Gucci guidava questa Lexus tutta inderapata, mi viene a pelle d'oca mentre te lo racconto. È vero? Cioè, mi hai sterefatto, perché la guidava tutta in spazzolata perfetto, con millimetrico, tac, sterzo a destra, trup, sterzo a sinistra, pelava il cordolo. Ho detto, ma cosa sta facendo questo qua? Drifting. Io, avendo sempre guidato la macchina in sbandata, in sovrasterzo, per far divertire i miei amici, per divertirmi io, per far divertire i ragazzi che mi guardavano in tribuna, ho detto, mi hanno fatto lo sport su misura. Esatto, ti sei illuminato tutto. Mi hanno fatto lo sport su misura. Mia mamma, prima di venire a mancare, aveva uno Z3, che ho tenuto dopo che è venuto a mancare, e ho usato come macchina per incominciare a dichiararmi un drifter. Io mi sono svegliato una mattina, sono un drifter. Z3, 1800, 1900. 1916. Ok, ho detto, sono un drifter. Bellissima, divertentissima, eh. 140 cavalli. Sì, fa il suo, sull'acqua sembra che c'avevi 400 cavalli, capito? Ed era veramente una macchina che a me mi ha dato tantissimo. Subito mi sono sentito a casa, anche perché nel drifting non c'è la questione del cronometro, non che io sia un lento, anzi, però non hai più la para di doverlo fare il più in fretta possibile, ma devi farlo ad alta velocità. Quindi il drifting vero va fatto a più veloce possibile, ma non nel senso di tempo sul giro, a livello di chilometri all'ora, che c'è una grossa differenza. Velocità e spettacolari. Bravissimo, tu devi entrarci il più forte che puoi, il più spettacolare che puoi, con la più padronanza che puoi. E nel frattempo la ciliegina sulla torta è esprimerti, riuscire a trasmettere al pubblico, ai giudici, un po' il tuo carattere, un po' della tua macchina, un po' della tua passione, tutto sciacrato insieme, fa una performance da 100 punti. Perché noi usciamo dal cancelletto con 100 punti sulle spalle, ok? E li perdiamo non facendo esattamente quello che il giudice ci ha chiesto. Ma se noi entriamo nelle clipping zone, che sono delle aree dove il giudice ci chiede di passare vicino con la macchina e la riempiamo tutta, possiamo anche prendere il 100 sostanzialmente. Quindi mi sono trovato veramente a mio agio, perché la velocità la adoro. Non ho la para del cronometro, che devo sacrificare delle manovre o delle curve per pagare il cronometro. Ha detto, bellissimo. Allora, ti ho detto, mi sono diventato una mattina e mi sono autodichiarato drifter. E a furia di autodichiararti poi ci inizia a credere, scherzi a parte. Beh, nel 2003 in Italia quanti eravate? Eravamo in pochi, ma veramente in pochissimi. E lo siete rimasti anche per un po'. Lo siamo rimasti anche per un po'. Purtroppo anche ad oggi sono in pochi che competono, ma in tanti che lo praticano, grazie a Dio. Ce li ho praticamente quasi tutti al Mazzuri. Al Mazzuri faccio 80 macchine a numero chiuso. E lo faccio una volta al mese per quattro mesi di seguito. Quindi la voglia di driftare in Italia è tantissima. Ma il come viene vissuta la competizione, il come viene vissuta la promozione di questo sport, secondo me, non è corretta. E non sta portando i suoi frutti. Perché poi non è che costi poco se lo vuoi praticare. Ma no, assolutamente. Anche perché qua mi ricordo che c'è una certa macchina che ti ha imposto un investimento importante. Madonna Benedetta. Sì, sì. Andiamo che ti racconto. Quindi siamo passati dalla mia prima Subaru, che poi il subarista è una razza. Cioè tu sei un subarista per sempre, secondo me. Non c'è niente da fare. Quindi, prima di parlarti di lei, inizia il sogno, ci credo. 2004, non ci credo ancora di più, inizia a prendere piede. Nonostante io pensavo che aveva già preso il piede di oggi nella mia testa. Uno ha delle realtà un po' non proprio corrette. Adesso ho detto, ok, qua il drifting è lo sport del futuro. Ci credo. Ho fatto un investimento molto importante nella mia vita. Lei è la mia giallina. La giallina l'ho incontrata a un'autokit show dove il sabato la guidava Loris Reggiani. Che era la prima gara di drifting che veniva organizzata in Italia. dove noi abbiamo partecipato come ospiti a questa prima gara di drifting in Italia dove c'era lei 4x4 che veniva guidata da Loris Reggiani. Che la domenica non poteva guidare. Cosa succede? Che mi vedono con la mia Subaru grigia. Questa senza pilota, il proprietario di questa macchina che era Hugo Shan di Auto4, mi dice, nel suo accento tedesca, tedesca barra veneta, no? Non riesco neanche a imitarlo, no? Però mi fa, insomma, mi fa, te la senti di guidare te? Mi faccio, cosa? Mi fa, la gialla, lui la chiamava la gialla. Non ha fatto tempo a dire, cioè letteralmente, io ero letteralmente, io ho fatto di... No, ma ti volevo spiegare la macchina. Quindi mi devi spiegare, è lei con gli steroidi. STI, 420 cavalli, tutta su perrin, cioè tutta uniball, era una bomba. Una lama. Una lama, 4x4. Parte la gara, anche qua, guarda quante pelle d'occa mi fate venire oggi. Parte la gara, domenica, e allora il microfono, dicono il mio nome, io sono cresciuto a Garbagnate milanese, a 20 minuti da Monza, ok? Sono nato a Milano, centro, ma sono cresciuto a Garbagnate milanese, che è a 20 minuti da Monza, quindi avevo invitato il mondo. Sì, Garbagnate, Cesate, Sarron, Bollate, capito? Tutti erano lì, no? Siamo dei paesi dove siamo abbastanza tamarri, capito? dentro, quindi c'era anche un'atmosfera molto carica, bravo, quindi comunicano il mio nome, entro io con lei, faccio prima, non l'avevo ancora provata, eh? Cioè l'hai provata direttamente? Direttamente in gara, faccio prima, seconda, come metto la seconda e tiro la leva, cavo la frizione e metto giù tutto, questa se ne sta a fare il tondo in seconda, quattro ruote fumanti, come proprio... Come se l'avessi guidata, non dico sempre, ma... Ti dico. Andò bene, quindi. Beh, ho sentito da dentro, con la macchina che andava all'imitatore, ho sentito il boato del pubblico da fuori, ok? Andiamo in finale, andiamo in finale e c'è stata una stand innovation generale, abbiamo fatto secondi assoluti, perché il primo aveva una macchina da drifting, aveva un S15, da drifting da 600 cavalli, nel 2005, una macchina comprata in Giappone, quindi non riuscivo a dare l'angolo in entrata, in uscita, in uscita davo ancora più angolo, ma più che in uscita di curva, tipo in centro curva, con questa entravo quasi all'incontrario, però lui usciva tutto a bandiera, bandiera di qui, bandiera di lì, con un 4 devi avere mille cavalli per fare bandiera di qui, bandiera di lì, no? Quindi lui alla fine aveva quel nè in più, ma essere secondo in una gara di drifting con un 4x4 è stato bellissimo. E qua arriva la svolta, quando ho dovuto comprarla, sentimi dire, ho dovuto comprarla perché Nicola Tesini vede, vede qualcosa nel drifting, ci crede, allora l'anno dopo fa il campionato italiano di drifting, ma con una regola secondo me molto giusta, sono ammessi solo in trazione posteriore, ovviamente, panico, perché io per la prima volta nella mia vita ho realizzato un piccolo sogno di essere un pilotino per qualcuno, capito? Quindi Ugo Shan era tutto gasato, l'auto 4 era gasata, io guidavo questa macchina, andavo spettacolo, mi arriva la telefonata di Ugo e mi dice, guarda, ci vogliono solo posteriori, io smantello la macchina, la vendo a pezzi, tutti i componenti, diciamo quelli tuning, passami il termine, quelli di performance, li vendo ad altri ragazzi che fanno performance, questa la rimetto originale e la metto in vendita stradale, no? Tu mi hai cascato un mondo addosso, no? Tieniti forte, metto giù il telefono ed era, io ero in vacanza, proprio letteralmente tipo prestissimo la mattina, 4-5 del mattino, faccio illuminazione, la facciamo a posteriore, 7 del mattino, 7 del mattino lo chiamo, la facciamo a posteriore, ma proprio non ti dico cosa mi ha detto, mi ha messo giù il telefono in faccia, mi richiama alle 9, come fai a farla a posteriore, no? In Giappone stavano facendo lei, nel 2005 a posteriore, quindi avevano fatto un transfert, lo chiamano, e tu metti nel cambio, elimini il centrale e da tutta la trazione al dietro, poi iniziano dei problemi catastrofici, perché è stata disegnata per sfogare la trazione su 4 semiassi, tu gliela fai sfogare su 2, si rompono come dei grissini, diventa simpaticissima la Subaru posteriore, si rompe a guardarla, a ogni cambio marcia, certo, mi ha fatto perdere il primo campionato lei, no? Quindi, fatta trazione posteriore, magicamente ho già una connessione con il Timorange, senza neanche saperlo, perché eravamo solamente io e Kumakubo ad avere le Subaru a trazione posteriore nel 2005. Italia, Giappone. Esattamente. Da lì i giapponesi mi hanno voluto invitare in Giappone a fare il primo provino che avrebbe visto il primo non giapponese ad avere la licenza per fare il mondiale, ed eravamo in 20 piloti di 20 nazionalità diversi, campioni ognuno della propria nazione, è stata un'esperienza di tre giorni, dove... In che anno siamo? In che anno siamo? Siamo a dicembre 2008, siamo primi di dicembre 2008, siamo a Fukushima, a Ibisu, in cima a una montagna letteralmente, no? Che sai, il Giappone, le montagne, le nebbiolina, ce l'ha tutta, è uguale, ok? Dove ci troviamo i 20 piloti, loro hanno... Pensa, io ero l'unico vice campione, un imbarazzo, però dentro di me dicevo... Qua c'è meritocrazia, cioè, capito? Perché... Puoi riprenderti quello che... Sì, qua c'è meritocrazia. Quindi, di conseguenza, dimostro tanta passione, tanto impegno, tanta determinazione. Evidentemente c'era anche un po' di talento mischiato in tutto questo, che vengo scelto come il primo non giapponese ad avere la licenza per fare il famoso D1 GP. Quindi, ad aprile 2009, invece che magari ripetermi a provare a rivincere l'italiano e continuare a portare qualche migliaio di persone sulle tribune... Mi sei dedicato... Fatto le valigie e sono andato a Tokyo. E lei? E lei mi ha portato nei primi 16, alla mia prima gara a Tokyo, sotto un diluvio universale, pioveva a catinelle. Pioveva a catinelle, me lo ricordo come se fosse ieri. Me la puoi descrivere un po', perché la conosciamo, ma facciola conoscere meglio. Io le darei del lei, così a Tokyo. Guarda, gli va dato del lei, ma per davvero, perché prima di tutto è un STI Spec-C questa, vera. Quindi è il 2000? Sì esatto, 2000 senza antirombo. Il motore giusto sulla carrozzeria giusto. Punto. Quindi per certi è stato un sacrilegio, no? Eh beh, ne ho fatte talmente poche, così pregiata, soprattutto adesso. Lei è la prima Subaru al mondo a posteriore. Nata da una Spec-C, è un mix tra un AJ20 e un AJ25, questo motore. Fa 8.900 giri ed eroga 650 cavalli alla ruota. Sembra una moto da Cross, due tempi. Pu, pu, pu. Sì. Sì, sì, ma sai, proprio anche un po', anche un po' nevrastenica. Proprio, c'ha quel rumore Subaru che diventa nevrastenico. Cioè, così fa, va veramente. C'ha lo stick stack che non gli sta dietro, c'è la lancetta dei giri che fa così. È impressionante questa macchina. È emozionante, è selvaggia. E com'è riuscita ad arrivare in questo tuo garage? 2009. Faccio delle belle performance, ma ovviamente, sai, mi sono buttato in una gabbia di leoni, no? 2010. Miglioro un po' le mie performance e i leoni comunque continuano a crescere intorno a me, quindi non è mai stata vita facile, no? 2011 inizio a impegnarmi anche di più proprio nei dettagli. Nei dettagli dall'alimentazione, da tante cose, anche l'allenarmi, trovare come fai ad allenarti spesso con la tua macchina per fare il mondiale. Costa una follia, quindi devi crearti, noi le chiamiamo delle missile car, macchine missile che, no? Che le usiamo per allenamento. Sono riuscito ad avere una macchina per allenarmi. Secondo me la mia tecnica è cresciuta, nel 2012 fanno la prima gara D1GP International Match a Tokyo. Quindi danno la possibilità ai vari campioni delle varie nazioni di iscriversi al D1GP, che prima non la davano questa possibilità. Solo perché erano campioni greco, francese, spagnolo, irlandese, avevano l'accesso al D1GP automaticamente. Ci troviamo in 32, io quel giorno lì stavo proprio bene e lei era perfetta. Li ho battuti tutti, uno dietro l'altro, con una naturalezza che se la ricordano ancora le tribune di Tokyo ad oggi. È stato molto emozionante, ho avuto tutto il team che piangeva, perché mi hanno visto partire da zero, mi hanno visto tutte le sfide che abbiamo affrontato, che poi ce ne sono state tante altre anche dopo di lì, però ad arrivare a quel momento lì è stato importante. Cena di fine anno, cena di fine anno, big boss, no, Kuma, proprietario della scuderia, proprietario della montagna, perché Kuma Kugo poi dopo ve lo racconto, ma è un omino che è proprietario di una montagna dove ci sono sette piste da drift e uno zoo safari in cima, un buon personaggio. Quindi il signor Kumakubo-san ha iniziato a fare un discorso in giapponese, vedo che un paio attaccano a piangere, un paio si inghiozzano, ho detto, un signor. Poi parte un paio di volte il mio nome, ho detto, mi lasciano a casa. Entro di me, ho detto, mi staranno per fare un discorso che mi lasciano a casa, no? Non è vero, non era niente di tutto ciò, anzi. A un certo punto io inizio a parlarmi in inglese e mi fa... abbiamo un attimo ragionato e sappiamo che sei uno un po' particolare, sei un personaggio un po' strano, però il tuo amore per le tue Subaru è un amore forte, addirittura più forte del nostro, pa-pa-pin, pam-pam-pam, pam-pam-pin. Imp, lo chiamano in giapponese l'impresa, imp. Se tu vuoi parlare con un giapponese dell'impresa lo chiami imp, no? E allora il Kuma con il suo inglese giapponesato da maestro Miyagi mi guarda e mi fa, take the imp with you. Prendi la imp e portatela con te, no? Mi è attaccato a piangere un bambino. Quindi te l'hanno... sì, come premio e riconoscenza di tutto l'impegno, il lavoro che ho fatto, il fatto di averla fatta vincere anche dopo Kuma, perché Kuma ha altre... Kuma vince il mondiale nel 2006 con questa e poi non l'ha voluta far più guidare a nessuno e l'ha tirata fuori per me nel 2009. Ma a questo punto si può vedere? Certo si può vedere. Il cuore pulsante. Certo. Tu pensa che è una macchina che oggi compie 17 anni di preparazione. Beh, in effetti... 2005. C'è questa cosa della pandemia, io... Sì, ti ha fatto... sì, gli app-pam e quindi non li aggiungi, certo. Non li aggiungo. Questa è una macchina fatta da Jun. Chi è Jun? Jun è uno dei migliori preparatori di macchine giapponesi degli anni 80 e 90 ed è quello che ha ottenuto il record mondiale di velocità. C'era quel video, sono sicuro che l'hai visto, di quella Subaru GC8 berlina che faceva 309 all'ora. Sì, sì, sì. Ai tempi che furono, no? Un po' sfocato. Sì. Andava via in retinia così, piripipi, e veniva fuori 309 all'ora. Preparata da Jun, sostanzialmente. Koyama-san, il signore si chiamava. Che adesso è venuto a mancare, ma... Un'altra cosa emozionante, quella gara a Tokyo, c'era Koyama-san che mi faceva la mappa e mi faceva l'assetto. Infatti lo guardo, in inglese gli faccio, It's raining, sta piovendo, no? E lui mi fa... I don't care, mi faccio bene. Lui mi fa... Non mi interessa, faccio bene, bene, bene. E mi fa... Fede Chan, it's big ball time, no? Tempo di tirar fuori lo scohones. Yes. Yes. Quindi, macchina... Infatti dentro è bianca, vabbè, a parte... Sì, macchina, quindi rifatti i passaruate interni per dare più spazio allo sterzo. Una cosa molto, molto speciale di questa vettura qua è che ci ha... È stata la prima vettura da drifting 17 anni fa. Adesso lo facciamo tutti per bilanciare i pesi. A mettere il radiatore posteriore. Ah. Per bilanciare i pesi e per far sì che noi prendessimo più aria. Noi prendiamo più aria nel posteriore che nell'avantreno. Perché? Perché stando sempre di traverso tutto il disegno della macchina e tutti i suoi condotti vanno a farsi benedire. Quindi noi mettendo i radiatori dietro e dandogli dei bocchettoni dove quando sei di traverso riesce ad entrare l'aria per raffreddarli, facciamo molto... Gli facciamo più beneficio così che a tenerli davanti nel vano motore, dove prende tutto il caldo del vano motore, dove se per sbaglio dai una picchiatina, capito, col muso e è finito il gioco. Certo. E dopo questo colpo d'occhio incredibile... Questo è speciale, eh? Passiamo a quello che poi sei anche diventato perché oltre che pilota hai formato altri piloti. Assolutamente sì. Sono istruttore battezzato dai giapponesi dal 2010, no? Facevo anche qualche corso per piacere perché ho proprio piacere di condividere la disciplina e la mia passione con tutti. Divento istruttore di cui ne vado molto fiero. Mi piace tantissimo insegnare, tantissimo. Ci vuole pazienza e quant'altro. Questo è un S14 con un LS1. Quindi questo è un S14 con un vuoto americano di un mio studente. Beh, è uno studente preparato. È uno studente preparato, molto preparato. Lei è molto ignorante, ha una coppia da camion, letteralmente. L'abbiamo fatta qua a Varano, insieme ad Acerni. Io ho fatto poi lo sviluppo, diciamo, dell'assetto e come vedi mi piace anche tenerle pronte all'uso per il cliente. È una macchina pronta all'uso. Giri la chiave, andiamo a girare in questo momento. Dimezzando il numero dei cilindri o quasi. Beh, questo è un 6. Sì, quello è un 4. Questo è un 6. R33 GTS. 420 cavalli alla ruota. È la gemella di questa, che sono le macchine di Kumakubo e di Suenaga quando siamo andati a fare il Motor Show di Bologna. Perché ti raccontavo, certo, mi hanno dato in affidamento a vita la mia Subaru Arancione. Quando abbiamo speduto la Subaru Arancione abbiamo spedito anche qua queste due, che ci siamo esibiti per circa quattro anni o cinque anni in seguito al Motor Show di Bologna. Loro piaceva da morire perché ovviamente venivano in Italia. Si esibivano quindi per lavoro. Area 48, motorbike. Bravo, davano di testa. I giapponesi ne parlavano poi fino all'anno dopo che ritornevamo sostanzialmente. Lei ha viaggiato tanto. Loro due hanno viaggiato tantissimo. Loro partono dal Giappone, vanno in Qatar, vanno in Russia, vanno in Cina, tornano in Qatar, vengono in Italia. Tornano a Parigi per un'esibizione, ritornano in Italia, vanno ad Atene per il Athens Tuning Show e ritornano in Italia. Ah, rifanno il passaporto e poi... No, veramente. È allucinante se ci penso. È molto speciale le storie di queste vetture qua. Quindi due R33, da gemelle, stessa preparazione. S15 penso che sia la macchina da drift più bella, più performante, con più pezzi aftermarket che esista ancora ad oggi. Questa. La Silvia S15 è bellissima. Anche la 14 è una bicicletta. Questa è un po' più nervosetta nei cambi di traiettoria, ma è una macchina che veramente ti parla. Lei ti permette di fare delle azioni in macchina che altre macchine non ti perdonano. E nello specifico com'è allestita? Quindi è una vettura, ha un motore che si chiama SR20, quattro cilindri. È una vettura che anche lei ha circa 450 cavalli, quindi è un motore comunque molto pompato. E ti chiedo, visto che ne abbiamo parlato spesso, come pesi? Come pesi sono tutte vetture che sono intorno tra i 1180, quella più leggera, ad arrivare a un 1350 circa. Lì gli manca un tocco di paraurti perché ho preso, ho fatto un po' troppo pelo a un clipping point, si dice letteralmente. E se l'è tenuto il clipping point? Se l'è tenuto sì perché a 130 all'ora se lo tiene. Anche il clipping point si devono tenere i propri ricordi. Esattamente. Questa vettura è la prima vettura della scuola italiana Drift, federale AC Sport. Vettura che ha tutti gli interni dalla casa con un roll bar. Sì, è stradale. Super stradale. E una vettura che appunto ha anche un valore come comunque anche le 33. Le 33 sono un po' più pasticciate di lei però è una vettura che ha anche un grande valore sul mercato perché diventano sempre più rare. Elegantissimo questo roll bar proprio. Grazie. Molto sagomato. Sì sì, perfetto con la gomma diciamo, vettura molto speciale. Adesso ti voglio presentare GGR e la GG1 che sono le due GT86 e sono molto speciali tutte e due per me perché sono molto birchine. Sono delle macchine... Ma quindi macchine non birchine credo ce ne siano poche. Sì. Però queste sono più birchine ancora. Sì, queste sono molto nervose come handling. No? È una macchina che cambia traiettoria, ti leva il volante dalle mani. Cioè letteralmente sono molto molto nervose ma sono delle macchine che per me hanno... Ho un legame, ho un legame con queste vetture ma non solo loro due, con la GT86. Appena ero uscita la GT86... Ti sei detto... Inverno... Ti sei detto qualcosa... Cioè io da appassionato quando è uscita la GT86 e adesso con la GT86 ho detto Toyota ha colto. Hai voglia. Hai voglia. Ha fatto centro. Dicci un attimo anche... Perché sono legato con la GT86. Abbiamo sviluppato la GT86 a Hokkaido inverno 2013 sulla neve insieme a Toyota e al Team Orange. Quindi ho un legame con questa vettura, questo telaio molto particolare, no? Lei è esuberante. Lei è stata fatta nel 2017 e finita nel 2018. Poi siamo partiti per l'America, quindi la sua prima gara l'ha fatta nel 2019 al FIA Motorsport Games di Vallelunga. Lei è il primo diciamo prototipo di macchina da drift fatta appunto indietro nel 2016 e 17. il primo prototipo di macchina da drift con tutte le ultime tendenze, ovvero 2JZ da 1000 cavalli. Cosa c'è di GT86? Il telaio. Il telaio. Ok, partiamo dalle cose semplici. Il telaio è ancora una GT86, ha avuto un po' di incontri ravvicinati con me e il mio flessibile. Ok. Ci sta. E poi arriviamo alle ottimizzazioni. Motore Supra, 2JZ. Il motore. VVTi. Ok. Perché abbiamo scoperto poi col tempo che il VVTi è molto più performante se lo riesci a gestire. Ok. Motore che eroga con questo boost, 1.6 di boost, eroga circa 900 cavalli alla ruota. Si può vedere? Certo. Si può vedere. Lo dobbiamo vedere. Vai. Non era una domanda. Ecco qua. 2JZ, si dice con lo stroker kit, quindi diventa un 3.1, diventa un 3.1, diventa un motore veramente tanto performante. Un motore che dà delle soddisfazioni mega galattiche perché comunque con 900 cavalli è sempre festa, dove acceleri e acceleri, lei ti porta fuori dal problema sostanzialmente. Cambio sequenziale. iniziano ad essere vetture, insomma, importanti, sia a livello di ingegneria, a livello di costi, ovviamente, a livello di manutenzioni. Però questa è una navicella spaziale. Va fortissimo. Poi è compatta. Si, 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 si. Come peso? Anche qui siamo sui… 1.170 senza me dentro. Da una GT86 gialla a una nera con un po' di giallo. Si. La gemella diversa. La gemella diversa è la GG1. La GG1. La GG1 è la prima macchina di FFF Drifting Department. Esatto, stavo guardando. È quello dove fa partire la scuderia che poi ci porta in America a correre. Ok. Quindi è la vettura che ha stimolato sponsor e investitori poi a costruire la GGR e la Fiorella. Ah, tutto è partito da questo. Esattamente. Che anno siamo? Siamo nel 2016. 2016. Fine 2016, inizio 2017. E questa è stradale. Questa è la mia versione di stradale. È la tua interpretazione? È la mia interpretazione di stradale. L'ho interpretata male? No, no, no. Perfetto. Targa prova, voglio dire. Targa prova per prototipi, che mi permette ovviamente di fare i miei collaudi e di usare le vetture quando facciamo una modifica o dobbiamo fare uno spostamento. Lei è molto speciale. Lei è una GT86. È la prima in Italia ad avere il Rocket Bunny. È la prima GT86 in Italia a montare il Rocket Bunny. È anche la prima GT86 in Italia a essere turbo. È una vettura che sono andato a prendermi a Londra. Guida a destra. Guida a destra. L'ho guidata da Londra a Milano. Divertentissimo. Già da stock. Sì, sì, sì. Assolutamente. Macchina divertentissima. Insieme ad Acme abbiamo poi scompresso il motore, fatto turbo. Poche vetture così divertenti. Pochissime vetture così divertenti. Quanto eroga adesso più o meno lei? 400 alla ruota. Poi comunque viene usata come nostro bigliettino da visita su quello che puoi fare alla vettura, su quello che noi facciamo la vettura, ma soprattutto su come lo facciamo. Quindi nei dettagli c'è modo e modo di montare un Rocket Bunny. C'è la mia magnificità e poi c'è il te lo monto così come viene. Vuoi specificare cosa significa la tua? La mia magnificità è, diciamo, se poi vedrai che se fai un giro intorno a questa vettura ha tutti i profili attaccati perfetti, sono tutti simmetrici, i gommini sono a proprio posto. È una vettura che io ci salto, vado sullo sterrato, vado sulla neve, vado sul ghiaccio, ovviamente asfalto vivo. È una vettura che ha visto non quattro stagioni, dieci ne ha viste. Lei è immacolata, certo c'è il wrapping di allora. Questo wrapping qua ha quasi sette anni, per farti capire. E ne ha viste di ogni questa vettura, sono molto molto legato a lei. Ed è una macchina che mediaticamente la GT86 piace. Sì, beh, ha fatto, secondo me solo lei ha fatto circa 12 milioni di views su YouTube. Ne ha fatte due e mezzo o tre con me, su due o tre video. E poi hanno ripreso i loro video, le hanno sparsi un po' in giro. C'è un video di lei che si arrampica su per la neve, c'è un video adesso di lei che si arrampica su per una strada di montagna, che piace da morire. Poi, sai, nera, faro giallo, sembra un po' indemoniata, no? Beh, Bensoil poi è molto famosa per video soprattutto notturni. Esatto, 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 esatto. Che abbiamo appunto come nostro sponsor in America, è molto prestigioso avere un'azienda così che supporta. Sì, sì, è un bel supporto. E visto che abbiamo esplorato una evoluzione sia diciamo cronologica ma anche tecnologica, come è cambiato il tuo lavoro? Come è cambiato il drift? Come è cambiato fare spettacolo con questa disciplina, con questo sport? Ad esempio dalla Subaru Orange? Certo. Prima di tutto è cambiato che 15 anni fa quando avevi 400-500 cavalli era una vettura importante. Era una vettura importante che faceva delle evoluzioni già ai tempi importanti. Oggi la stessa vettura da 450 cavalli di 15 anni fa fa sempre le stesse evoluzioni che faceva 15 anni fa, ma ormai è molto più all'ordine del giorno. E cosa succede anche? Che la tecnologia si è avanzata. Le vetture ovviamente iniziano a fare dei remake come questa GT86, che è il remake della AE86 a trazione posteriore e di conseguenza noi ci troviamo con una macchina moderna a trazione posteriore che non ne venivano fuori dal 96. Dalla fine degli anni 90, se ci pensi, i giapponesi non hanno più fatto macchine a trazione posteriore. Tra l'altro la AE86 l'hanno rifatta proprio loro di recente. Esatto. È un concept, è una sola, però non la venderemo. Vi abbiamo fatto venire un po' di... però no. Capito? Capito. Sono fastidiosi ogni tanto. Come cambia? Cambia che è anche vero che oggi devi per forza diventare invasivo con l'engine management, con la centralina. Quindi cosa cambia una macchina moderna da una dei tempi? Con un modulino aggiuntivo gli parlavi, diciamo, la vettura, no? Oggi sono talmente tanto sofisticate che devi per forza cambiare di tutto l'impianto elettrico per parlargli. E a livello di evoluzioni anche, non è più una questione di angolo, è proprio una questione di imbardare in maniera più... Adesso guardiamo il pelo nell'uovo nella mia disciplina. Cioè se prima era emozionante chi la teneva in sbandata e chi ne la teneva di traverso, adesso è emozionante chi per forza struscia il muro, fa il pelo millimetrico, la guida con tutto lo sterzo aperto. Insomma, in più qualcosa... La vera differenza è che ai tempi ci facevamo noi pezzi in casa. Cioè facevamo letteralmente noi l'avantreno con il nostro fabbricatore che azzeccava o sbagliava il lavoro. Oggi tu apri internet e c'è l'avantreno da drifting per la GT86 già pronto. Il retrotreno da drifting per la GT86 già pronto. Questo è quello che è cambiato. E per la Fiorella invece cosa c'è? Niente, c'è fede. C'è fede. Descrivici un attimo la Fiorella, tanto abbiamo tante immagini di lei e quindi... La Fiorella è una creatura... La Fiorella è una creatura veramente molto speciale. La Fiorella è una Ferrari 599 GTB. Fiorano. Fiorano. Da qui. che nasce doppio volumetrico. Non stava insieme, saltavano le cinghie. perché ovviamente tu provi a rallentare dei volumetrici che girano a 80.000 giri. Quindi c'è il moltiplicatore, quindi i volumetrici girano a 80.000 giri. L'albero gira a 8.500 giri. Tu schiacciando la frizione e tirando la leva. L'albero va a mille giri, ma i volumetrici sopra si incazzano. Ma l'ho capito col tempo. E un po' sui denti. Allora succede che io eravamo in America e dico va bene, via i volumetrici, 12 iniettori di protossido. Ho messo la Fiorella. Quindi gli do una gettata di 300 cavalli di protossido con un motore che me ne eroga 720 aspirato. Quindi aspirato 720, 300 di getto, arriviamo a 1000 tondi. Con un V12. Con un V12. Ma, ma, cambia la bombola, metti la bombola. Non sai mai quando, cioè sai, si lo vedi, ma non sai mai quando finisce sto benedetto protossido. A me piace avere meno pensieri possibili quando guido. Allora cosa abbiamo fatto? Via il protossido. Ho messo una turbina della Garrett grossa come la mia testa. Abbiamo detto addio all'aspirato, però ci voleva. Ok. Ho messo la Westgate, che poi spiegheremo più avanti. Ho messo la Westgate nella parte fredda. Quindi ho la turbina che continua a soffiare. Ho dei bassi come se fosse una macchina elettrica. Fa 1125 cavalli alla ruota con 1.5 newton chili di coppia. E come spesso accade, quando l'appetito diventa incontenibile, un assaggio bisogna concederselo. E dopo una carrellata del genere, il mio appetito era incontenibile. Quindi quando Federico mi ha offerto una breve gita panoramica sulla GG1, in pratica ero già con le cinture allacciate prima che lui me lo chiedesse. In questo garage di targato e street legal c'è poco. Ma per questa dedizione tenacia passione per il drifting, una targa, anzi molto più di una, Federico se l'ha già meritata, in Italia e soprattutto all'estero, dove in certi contesti poter sventolare il tricolore italiano è una soddisfazione ancora più grande. E lui ci è riuscito e ci sta riuscendo. E dopo questa iniezione di potenza nipponica, siete pronti a immergervi nello stile nostrano più puro? Bene, allora non perdetevi il prossimo formidabile nel Garage D. A presto!